Nel 53 a.C., dopo svariati decenni di guerre sanguinose, Giulio Cesare conquista definitivamente la Bretagna e arriva in quell'ultimo lembo di terra che dalla Francia si protende verso l'oceano atlantico. La natura selvaggia del luogo e dei suoi abitanti, il fatto che fosse la parte più occidentale di quella terra appena conquistata, spissero i romani a chiamarla con un nome che è rimasto lo stesso fino ai giorni nostri, Finisterra, oggi Finisterra. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Reality Fishing Explorer. Ci troviamo in Bretagna e questo è quello che devono fare i pescatori quando si trovano a partire in bassa marea. Questo è il dislivello tra la bassa e l'alta marea di Finisterra. Ed è questa anche la ragione per cui si pesca o non si pesca. Ed è quello che muove la corrente e quello che fa muovere i pesci. Quindi a noi interessa quello per cui possiamo anche scendere è una cosa del genere. Ok. Basta la marea e quindi bisogna prendere la stretta. Buongiorno capitano, dove andiamo? L'Eglennan. L'Eglennan è un arcipelago un poco più a sud di qua. È il giardino segreto di François. Infatti su questa barca ci sono degli adesivi dell'Open di pesca di Eglennan che è uno dei tornei più importanti per la pesca alla spigola qua nel nord della Francia e lui ha partecipato diverse volte e ha vinto l'anno scorso. Quindi siamo in buone mani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.